Conosco bene questa regione, conosco Pesaro, conosco Ancona, conosco l'entroterra, ho fatto il segretario regionale dei metalmeccanici qui per otto anni. Ho trovato una terra, come sempre, bellissima, in cui però ci sono anche molte criticità che vanno affrontate dalle questioni della sanità, su cui si sta arretrando alla sempre ormai storica necessità di superare l'isolamento con le infrastrutture e soprattutto immaginare un'idea di sviluppo e di lavoro, soprattutto per le nuove generazioni. Ecco, questa è una regione al momento di centrodestra, con un territorio, quello in particolare di Pesaro, ma anche di Ancona, con una forte presenza del Partito Democratico. Si parte da qui per continuare a fare quanto di buono è stato fatto dal partito in questo territorio? Sicuramente le città sono ben amministrate, sono ben amministrate da tantissimi anni e qui c'è un buon governo delle città e ovviamente i sindaci sono la rete di prossimità più vicina ai cittadini e ovvio che questo rappresenta una ossatura molto forte. Alla regione, il centrodestra, c'è solo da due anni e insomma, accanto alle promesse fatte due anni fa, adesso sostanzialmente la giunta regionale si smantella e prende il treno per Roma per andare alla Camera e al Senato. Questo è un elemento di riflessione per i cittadini perché dopo solo due anni in cui è stata chiesta una fiducia per cambiare la regione, andar via lascia qualche sospetto proprio in termini di serietà. Per questo noi crediamo invece che bisogna, quando si decide di candidarsi, bisogna comunque sia fare un patto con i cittadini, sia eletti sia non eletti, per stare e restare insieme a loro. Fino a poco tempo fa c'era la gestione della pandemia, ora sembra il caro energia il tema centrale dal quale tanti si aspettano risposte in questa tornata elettorale. Tanti si aspettano risposte, è una patata bollente per chi andrà in Parlamento, non so quali sono i margini di manovra secondo lei in questo ambito. Ma i margini di manovra ci sono ed era esattamente l'iniziativa che il governo Draghi stava facendo a livello europeo per un tetto europeo sul prezzo del gas e dell'energia elettrica, a cui aggiungiamo la necessità di raddoppiare il credito d'imposta per le imprese, deve essere almeno oltre il 50%, la necessità di disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, dei canoni sociali per le fasce più deboli per poter comunque intervenire nell'immediato, per quelli che saranno i rincari da settembre e ovviamente gli interventi per le imprese più piccole e le imprese energivore che in questa fase rischiano in alcuni casi di non riaprire dopo la pausa estiva o di riaprire e chiedere cassa integrazione. Non c'è peggior cosa di avere cassa integrazione per cui stipendio ridotto, ore di lavoro in meno e i prezzi che invece continuano ad alzarsi.